buonasera a tutti siamo qua ieri sera abbiamo vinto la supercoppa italiana voglio ringraziare il nostro il nostro mister Andrea Pirlo siamo siamo contratti tra Juve e Napoli abbiamo vinto per per due a zero questo trofeo cominciato da ieri sera abbiamo veduto in Napoli e e comunque voglio ringraziare tutti i tifosi della curva sud della scerea della Juventus voglio ringraziare tutti i tifosi e voi i giocatori i nostri ragazzi e il nostro allenatore Andrea Pirlo e voglio ringraziare anche Fabio Paradeci per il calcio mercato e la sua famiglia di bianconera Andrea Agnelli e soprattutto e grazie anche Fabio Neves di essere presente questa squadra orgogliosa a vederci e e peccato siamo partiti un po' più tardi con il nostro piede storto e piede sinistro per svoltare la supercoppa italiana e soprattutto anche anche il campionato abbiamo siamo partiti più tardi e fino in fondo diciamo sempre fino alla fine forza Juventus speriamo verso maggio e siamo partiti bene e andare a vedere terzo secondo posto e primo posto e vedremo vedremo che verso maggio andremo per festeggiare lo scudetto e il campionato e manca una partita importante e anche la finale e voglio questo filmato poi il secondo e voglio chiedere voglio vincere tutto ma veramente tutto la Coppa Italia e la supercoppa italiana e la Champions e lo scudetto e il campionato e aspettiamo che giunga un'altra vita di bianconera e trippoletta come l'Inter ma riusciamo mettiamo lì queguette e Juventus FC noi si chiamano e voglio ringraziare questa squadra fuori carica squadra fuori classe e voglio ringraziare il nostro Cristiano Ronaldo e i suoi gol più belli del mondo e voglio ringraziare anche Alvaro Morata per l'ultimo l'anno arrivato benvenuto Morata per essere per portare la vostra orgogliosa squadra e più orgogliosa di questa notte magica Juventus e voglio tenere tutta la mia vita da Juventus fino alla fine Fosso Juventus per sempre